Per quello che state facendo è bello vedere questa scuola così colorata e così animata, veramente rallegra il cuore e io vi faccio i ringraziamenti, gli auguri di Pasqua e un caloroso saluto a tutti quelli che lavorano intorno a questi bei progetti che rendono la nostra scuola sicuramente ai livelli migliori possibili. Quindi grazie ancora e un applauso.